Ciao a tutti ragazzi, bentrovati allo Shibuya Cafe, io sono Luca. Come avete letto dal titolo e come forse avevate già visto su Instagram, se volete c'è anche una storia in evidenza, vendo serie manga. Perché vendo serie manga? Perché ho bisogno di fare spazio in libreria, non so più dove metterli, voglio continuare a collezionare sempre nuove storie. Vi faccio vedere brevemente i manga che vendo e, se vi interessano, potete scriverci direttamente in direct sulla pagina Instagram dello Shibuya Cafe e troviamo un accordo. Partiamo con l'attacco dei giganti, ora io mi scanso e ve lo faccio vedere. Allora, ho la serie completa dal numero 1 al numero 34, come potete vedere qui. Io vedo anche un piccolo posterino che vi allegherò come omaggio a chi lo acquista. Come vedete, numeri 1 ho il normale, ho quello, diciamo, Discovery, ecco come veniva, la Variant che usciva con la maglietta, il numero 1 in giapponese e poi tutta la serie, guardate voi che volumi, tutti i volumi che ci sono, e il 33 in Variant, non so perché ne avevo due copie, oltre al 33 normale e il 34, sia così che in Bundle. Questo è l'attacco dei giganti, è tenuto molto bene, l'unico volume che ha le ondine è il volume numero 22, per il resto tutto normale e tenuto bene, sempre tenuto in libreria. Poi, altra serie completa, venite con me, proseguiamo altra serie completa, vi faccio vedere Tokyo Revengers, Tokyo Revengers anche qua, dal numero 1 al numero 31, del numero 1, numero 1 in giapponese, ancora imballato, in cellofanato, e quindi potete vedere che anche i numeri giapponesi dopo un po' si ingialliscono, cioè si ingialliscono tutti i volumi che hanno carta non di grossissima qualità. J-Pop ha carta buona, quindi vedete sono tutti tenuti piuttosto bene anche come colore della carta, in più ho l'1 Variant Half, eccolo qui, e anche questo è incluso nella serie completa che trovate qua. Poi, The Killer Inside, completa anche questa, dal numero 1 al numero 11, eccolo qui. Poi, Black Torch, dal numero 1 al numero 5, completa. Words and Harem, dal numero 1 al numero 12, la serie completa iniziale, più il 13-14 della nuova serie che sta continuando a uscire. non so sinceramente se è uscito il 15, non me lo ricordo. La Clinica dell'Amore, completo con il box, praticamente immacolato, anche questo, quindi tenuto perfettamente. Poi abbiamo Mairo Accademia. Avevo questo volumino qui, che era una sorta di primo capitolo, sia di Mairo normale che di vigilante. Poi tutta la serie completa, fino al numero 31, perché poi ho smesso di acquistarlo. Potete vedere che c'è il 14 variant, e c'è il 30 variant. In più c'è anche l'Ultra Archive, che è, eccolo qua, che anche questo vi allego, nella vendita. Tutti tenuti bene, eccoli qua. Ovviamente, più i volumi sono nuovi, meno sono giallini, ma questo è normale per ogni serie. Guardate di nuovo anche qua, la qualità della carta. Words and Arm, J-Pop, qualità della carta buona. Le torce più giallino, ma sono fatti così, non c'è molto da dire. Poi, Poison City, bundle, volume 1, volume 2, insieme completo, quindi della J-Pop. Tetsuya Tsutsui, e poi Planetes, Planetes in questa edizione completa. Veniva 45 prezzi di copertina, eccolo qua. Questo bel mattoncione. Eccolo qui. Ed eccoci quindi giunti alla conclusione. Vi interessa qualcuna di queste serie? Scriveteci in direct, su Instagram, oppure se non avete Instagram, alla mail dello Shibuya Caffè, che va bene lo stesso, la trovate qua in descrizione nel video, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!